Bella raga, a quanto pare abbiamo i dettagli delle skill di Onglan, la nuova bestia che deve uscire su Eversoul e siccome sono molto interessato perché il type delle bestie ha delle buone unità ma effettivamente gli manca qualcuno che riesca a coprire quel DPS range da OE potrebbe essere che Onglan sia esattamente quello che manca alle bestie per diventare uno dei type più forti che c'è in game comunque non perdiamo altro tempo, andiamola a vedere, vediamo un po' che cosa fa ok, allora ovviamente è un caster che usa INT per il tipo delle bestie e va bene ora, ok vediamo un po', gli ho dato un'occhiata veloce ma non l'ho effettivamente analizzata quindi questa sarà un po' la prima volta eventualmente ora iniziamo dalla main come sempre allora pioggia di ghiaccio che infligge danni per al 110% dell'attacco a tutti i nemici quindi, percentuale di attacco relativamente bassa ma colpisce tutti i nemici riduce il mana di tutti quelli colpiti di 1500, questo effetto è molto forte e li congela facendo il 55% del danno ogni 2 secondi per 8 secondi ok, quindi fammi capire li congela non significa che i nemici stanno fermi ma semplicemente è il nome del dot immagino quindi 55% del danno ogni 2 secondi quindi per 4 sono 220 quindi è un 3,30% di attacco totale più un mana ridotto di 1500 ed è la main skill sembra molto forte allora a livello 81 il danno cambia 120 e 60 quindi siamo a 230 ok, 240 a livello 181 aumenta ancora il danno e il mana va a 2000 il mana ridotto ok, quindi a livello 181 riduce il mana di tutti di 2000 ogni volta che fa la main skill wow ok, è particolarmente forte va bene andiamo avanti, vediamo la sub skill manda un drago di ghiaccio fa danno pari al 100% all'attacco in 1.5 metri di larghezza in una linea larga 1.5 metri davanti a lei infligge anche questo freeze damage per 10 secondi no, la main era 8 secondi questo invece è 10 secondi ok quindi nulla semplicemente fa danno davanti a lei e fammi vedere 5 più 250 350% ok, la sub skill fa più danno della main ma ovviamente non colpisce tutti i nemici e non riduce il mana quindi ok semplicemente una skill da dps ranged niente di troppo sconvolgente insomma vediamo la seconda sub skill allora crea un ice pillar fa danno pari al 100% all'attacco in un'area di 2.5 metri vicino al target più nemico se il nemico è frizzato a frozen addosso viene stunnato per 2.5 ok quindi se noi facciamo ice dragon su nemico oppure glacial shower su nemico quindi la main o la sub e dopo viene hitato con freezing strike con una sub noi stunniamo per 2.5 secondi oltre a fare danno ovviamente non è fortissimo non è tanta roba lo stun di 2.5 secondi può sembrare tanto ma se guardiamo unità come me philinzi eccetera non è niente di che secondo me però vabbè è un cc extra perché no 110% all'attacco non è niente di che non applica freeze funziona solo se i target hanno già freeze addosso ok questo è interessante allora passiva mentre un glane sul terreno riduce la velocità del 10% di tutti i nemici e l'evasione di 15 ok a livello 161 14% di velocità in meno e 21% di evasione in meno wow ok quindi questo solo avendola in campo ok carino non riesco ancora a dare una vera importanza al come si dice alla statistica velocità lo vedremo però il solo fatto che questa roba la ottieni solo avendola in campo senza nient'altro è molto carino va bene artefatto ice dragon aggiunge 80% di attacco ai nemici congelati e recupera il mana di un glane di 200 allora ice dragon è la prima sub che abbiamo visto quella che poi congela ai nemici già congelati aumenta 80% di attacco quindi a 100 diventa 180 e poi a livello 121 a 120 diventa 200 interessante ok ice dragon questa sub skill fa veramente un sacco di danni con l'artefatto il mana recovery di 200 è pochissimo il mana recovery di 200 è pochissimo è letteralmente una versione un po' più scarsa dell'artefact di velanna e però vabbè overall va bene l'estat attacco hp crit rate crit damage ok allora vediamo la ultimate congela tutto il terreno va dando pari al 170% all'attacco a tutti i nemici e riduce il loro mana ai 2000 quindi è una versione potenziata della main decisamente potenziata congela il nemico i nemici e fa 60% di danno ogni 2 secondi per 8 secondi e li stunna per 2 secondi ok un altro pg che stunna ad aria non solo mette freeze a tutti gli riduce il mana di 2000 wow ok quanto danno fa in totale strova 60% per 4 240 310 410% di danno che a livello 201 diventa 440 no molto di più 480% di danno riduce il mana a 2500 wow oh mio dio questo è forte la sua ultimate mi sa che diventa la main delle bestie che tra l'altro è letteralmente la main solo che stunna anche riduce più mana e fa più danno il fatto che attacca sempre tutti i nemici è veramente forte voi non avete idea faccio un esempio con Mephi e Vivienne Vivienne se avete un assassin dietro e praticamente non potrà mai ultare perché ulta sempre il nemico più vicino a lei l'assassin e Mephi invece i target se non sono vicini ne arriva a colpire anche solo uno massimo due il fatto che lei riduce il mana a tutti quindi potrebbe evitare tutte quelle situazioni in cui un healer sta per tirare delle cure oppure un tank sta per tirare il taunt oppure per recuperare la vita tipo Claire eccetera toglie via tante di quelle situazioni scomode che è incredibile questo effetto qua è molto forte e tra l'altro mi sembra anche un arena beast in arena anche questa roba è devastante quindi pvp penso sarà top tier assolutamente anche perché secondo me le bestie sono top tier in generale semplicemente non si incastrano ancora benissimo e il problema principale è dato dal fatto che il tank delle bestie rende un po' meno rispetto a tutti gli altri e però tutto sommato ok danno a tutti i nemici praticamente sempre e dot a tutti i nemici praticamente sempre e mana ridotto molto spesso perché io penso che se la giochi la sua ultimate è l'unica che fai o almeno nella maggior parte dei casi e la sua main il fatto che spamma questa roba spamma poi bisogna vedere un po' come viene fuori ma cioè c'è caso che tu in un giro solo puoi fare mana ridotto di 2500 più 2000 4500 di mana in meno adesso non so qual è il cap di mana di ogni pg però è tanto 4500 di mana in meno che voi cioè non sono rari gli scenari in cui fate main più ultimate uno dietro l'altro o viceversa wow ok non saprei sembra sembra veramente che svolterà totalmente secondo me svolterà il meta questo pg a differenza di geo e velanna che erano molto situazionali questo penso sia il primo personaggio che potrebbe svoltare il meta per quanto riguarda le composizioni che usi sia nella storia che in arena perché veramente mi sembra che faccia tutto quello che ti serve da parte di sia un dps che di un supporto ranged quindi nulla questo è un po' quello che penso di un glan onestamente questo è qualcosa che vorrei pullare anche per chi adoro il type bestia solo che appunto gli manca qualcosa e il problema delle bestie però è sempre su uni il problema delle bestie è sempre su uni vediamo se la trovo ha questo gigaproblema qua che bene o male è la sua main e non riesco a capire qual è il problema perché taunta i nemici il problema è che si carica troppo lentamente su uni rispetto agli altri ho la percezione che si carichi troppo lentamente la sua skill è anche vero che le bestie hanno due healer hanno sia e clara come healer perché lei non si cura effettivamente infatti vedi perché qua la sua passiva aumenta le cure over time di tutti gli alleati mentre lei è in battaglia non si cura ma aumenta le cure infatti non lo so vabbè questo non è importante il suo artefatto non è tantissimo questa roba è veramente poco non ha una cura in skill lei ed è il motivo per la quale secondo me rende un po' di meno degli altri e muore un po' prima quindi vedremo comunque overall penso che è un clan cambierà penso che cambierà un bel po' il meta soprattutto se i valori rimarranno identici a quelli che abbiamo appena visto non fa tantissimi danni non subito almeno perché poi col dot chiaramente arriva a farne parecchi ma tutti gli stun nel calo di mana sicuramente secondo me la renderanno un must in tutti i team quindi nulla questo bene o male è quello che penso di tutta questa di questa nuova unità non vedo l'ora che esco onestamente penso quindi che la pullerò fatemi sapere voi cosa ne pensate per me è sembra veramente spettacolare oltretutto è anche abbastanza spero gli mettano una skin qualcosa non lo so in realtà il 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 design di base è anche abbastanza carino quindi nulla ok noi ci vediamo alla prossima fatemi sapere appunto cosa ne pensate nei commenti e se vi è piaciuto il video iscrivetevi magari al canale che mi aiuta un sacco d'accordo alla prossima bella 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 bella